qui abbiamo la motonella bellissima, il giardino è ben curato, l'angrocio va bene, mi seguo la mia scesa e non è ben gippucci, l'avete vissuto, mi penso, devo addiole, sempre in cima della montagna, ora ci vanno solo a domenica, quindi settimana per passare la mia mamma, la ragazzina e tutti in montagna, qui c'è una pianta cerace, stiamo sempre in cima della mia cerace, non solo ecco, pure ecco, ma ora cerace, praticamente qui c'è, prima che era cambiata, la giraccia la maggior parte si è seccata, sì, questa è una marina serbatica, che non produce, ecco le more, questo si è buono, spettiamo il sambuco, a camare una serbatica, qui si sente il rumore dal serbatore.